Il Castellammare rialza la testa nel campionato di eccellenza. La squadra di Peppe Bione è riuscita a battere il Mazzara nel derby di campionato nonostante i buoni risultati della squadra canarina con l'avvento in panchina di Domenicali. Castellammare 1 Mazzara 0 per quanto riguarda invece l'altra formazione di Mazzara del Vallo, appunto la mazzarese, pareggio in casa 1 a 1 con lo Sciacca dunque rallenta questa formazione che tra le mazzaresi è quella che stava andando meglio in campionato. La giornata è importante invece per il Marsala che finalmente riesce a centrare la prima vittoria 2 a 1 in trasferta sul terreno del Cospalermo e i libetani che finalmente lasciano l'ultima posizione. Sono adesso a 6 punti seguiti proprio dal Cospalermo e preceduti dal Monreale che invece è a quota 8. Le altre trapanesi, Castellammare a 22 punti, a 8 dalla vetta, Mazzarese 21, Mazzara 19. Nel campionato di promozione l'Alcamo riesce a vincere nettamente e meritatamente il derby con la Folgore di Castelvetrano. L'11 bianconero va in vantaggio nel primo tempo con Butera che si conferma uno degli attaccati più prolifici del campionato. Poi prima del riposo è arrivato il pareggio rosso-nero con Non Corso. Alla quarto d'ora della ripresa ancora Butera che sigla il 2 a 1 per l'Alcamo. 2 a 1 che di lì a poco diventa 3 a 1 grazie alla massima punizione il rigore trasformato da Ferrante. Alcamo 3, Folgore 1 e vittoria meritata per la formazione di Tarantino. La parte di Nicodace invece riesce a metà nell'impresa contro il Lascari vicecapolista 3 a 3 fra Neroverdi e Madoniti. Il Folgore continua la sua marcia importante in questo campionato battendo il Carini per 1 a 0 mentre il San Vito Locapo busca tre reti sul terreno del Gangi. In classifica in testa c'è sempre la Resuttana San Lorenzo con 28 punti, al secondo posto il Gangi a quota 24 e terza davvero uno splendido Fulgatore con 23 punti. L'Alcamo insegue a quota 18, Folgore 17, San Vito Locappo 16 punti. Parti di Nicodace quart'ultimo con 10 punti raccolti in 12 partite.